Ha preso fuoco mentre la stavano trasportando verso il cantiere a Bellocchi, la barca proveniente da Ravenna è andata in fiamme questa mattina intorno alle 11.30 in via Flaminia, all'altezza della rotonda che collega Centinarola e Rosciano. Il natante, un Sandex 700 alto circa 20 metri, sarebbe passato troppo vicino al cavo dell'alta tensione con l'antenna radio posta in cima alla barca, tanto da innescare il rogo, creando numerosi sbalzi di corrente in alcune zone della città. La potente scarica, generata dal traliccio da circa 120.000 volt, ha causato anche un piccolo cratere nell'asfalto sottostante e ha generato un boato come un'esplosione avvertita anche a chilometri di distanza. I danni agli interni dell'imbarcazione sono ingenti, nonostante il fuoco sia stato poco, infatti il fumo ha danneggiato tutti gli impianti elettrici. L'incendio è avvenuto poco distante dalla caserma dei vigili del fuoco di Fano, che sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte né vi sono feriti tra coloro che si trovavano nel mezzo di trasporto.